Musica Ad ogni buon conto andrò a toccare il teleport Mamma mia, quante queste che ci sono in sto posto? È incredibile, quante queste ci sono? Potrei fare una scorpacciata Magari le prenderò tutte, le potrei fare anche adesso Anche perché adesso mi darebbero un quantitativo di punti necessario Utile per poter passare di livello perché sono livellate con me Non sono di 10 livelli sotto Allora, ragioniamo Prendiamo la missione da lui Perfetto Qua c'è la missione delle leve quest La tengo per ultima perché Non sono neanche sicuro che valga la pena sbloccarla Andando qui dietro, anzi qui dentro se ne sblocca un'altra ancora Eccola qua Missione di livello 44 Che ci dà armature di livello adeguato A noi, quindi molto buono Perfetto A questo punto Ah, io la prendo lo stesso Quella delle leve quest perché mi infastidisce la presenza del simbolo Qui Nella In questo piccolo In questa piccola zona Accetto la leve quest che lui mi dice Perfetto Facendo quella leve quest Io sbloccherei Le leve quest Di questa zona Poi qua c'è un altro Un'altra missione qui dietro Due me ne dà questo Me ne dà due Di livello 36 Tra l'altro questa Mi sblocca le moto di tirare le palle di neve Quindi immaginate Quale emozione Posso subito tra l'altro completarla E levarmi questo sfizio Allora guardate Emote Vediamo se la trovo E' grigia Eccola qua Throw Tirare le palle di neve Allo snowman Eh Mica male Prendo un'altra missione Vado avanti con un'altra missione ancora Devo tirargli qualcosa a lui Va bene Gli tiro qualcosa Abbiamo visto che era in basso Quindi gli tiro una palla di neve Così porto avanti Anche quest'altra missione Perfetto Ora devo colpire lo snowman Niente di più semplice Tutto facile adesso Tac No Non era lui Che devo colpire Trovo snowball Allo snowman Sì è questo Lo sto facendo Trovo snowball Allo snowman Mi sembrava Mi sembrava fatto giusto A meno che non ce ne sia un altro Snowman Ah ce n'è uno là Pardon Ok Adesso Questo qua è quello col berretto Ok Ho fatto giusto Perfetto Posso Ah devo farlo di nuovo Trovo again Ok va bene Tac Tac Ok Once more Va bene Poi basta però Perché mi rompo le scatole Direi che ci siamo E anche questa è fatta Potrei passare al 45 Facendo queste missioncine qui È ridicolo però Una missione apposta Vabbè 7000 punti Non sono neanche tanti Allora C'è anche qualcosa qui intorno Che devo toccare Vediamo se magari Devo toccare proprio lui Ah Devo far Rally Devo Interagire con questo Con questo Pupazzo di neve Per un'altra missione ancora Ok L'ho fatto Ora devo fare shout Dov'è che è Sempre un problema Quando non sono in ordine alfabetico Eccolo qui Devo calmarlo Anche questa è fatta Cheer Va bene Ehm Peppa Cheer A posto Direi che abbiamo fatto tutto No Devo ancora fare blow kiss Ma io ce l'ho Blow kiss Beh Direi di sì E questo però Non so dove sia Blow kiss Qua Gli mando il bacio Ok Ora devo fargli goodbye Goodbye all'inizio Ok Anche questo è fatto Basta Abbiamo finito tutta questa Questa serie di Inutili emot Concludiamo la missione E anche con queste scemate Ci avviciniamo Al livello necessario Per il passaggio Al 45 Poi Qua sopra C'è un'altra missione E la si prende al volo E' molto bella E' molto bella quest'area A me Come ho sempre detto Piacciono le aree innevate Quindi Assolutamente Mi trovo a mio agio In questo ambiente Mi piace proprio E c'è di buono Che quasi in tutti i giochi E' presente Una regione simile Quindi Sono molto felice Qua ci sono nemici Che mi agrano Quindi devo stare all'occhio Quanti pezzi di legno Da ardere Che devo raccogliere In totale 8 Questo è il quinto E ne mancano veramente Soltanto più due Uno è qua Me ne manca uno Che potrebbe essere ovunque Ah eccolo là Perfetto L'ho trovato subito Già che sono qua Prendo la missione Che c'è qui Proprio in questa capanna Ok Entriamo qua Ah tra l'altro E' proprio qua Che devo andarla a consegnare Quindi Risparmio anche del tempo Questo è un cavaliere Dell'ordine Ecco il 45esimo livello Dell'ordine di cavaliere Che vivono in questa In questa zona innevata Sono degli elfi Sono gli abitanti di Ishgard Ho preso una missione Qua ne prendo un'altra Questa volta mi mandano Verso nord Ma io non andrò subito Verso nord Perché potrei fare Ancora qualcosa qui Allora innanzitutto qui Potrei ancora Chiudere qua In pratica C'è una missione Che Mi porta nuovamente A Darkhold E parlo con Ophelia Che è qui fuori Per chiudere un'altra missione In pratica Avrò due motivi Per andare A Smile Darkhold Uno legato alla Grand Company Uno legato a questa quest E anche in questo caso Non ci costa nulla Quindi riusciamo a prendere Due piccioni con una fava A fare Quindi due missioni Qui dentro Senza doverci tornare due volte Anche perché Non è proprio un dungeon Facile facile Eccoci qua Ci darebbe anche Delle cose Interessanti Molto Interessanti Guardate un po' Il mio body Cambierebbe Ovviamente Anche se diventerebbe Un'orrenda Caffettiera Un'orrenda Caffettiera Io non mi posso permettere Di andare in giro così però Cioè veramente Sembro un Gundam Improponibile Sarà mio dovere Prima possibile Cambiarmi d'aspetto Andiamo a fare A questo punto La leve quest L'attivo nel journal Vado nell'ultimo Saving Bessie Faccio Iniziate Non posso farlo Mentre sono Sul cioccolato La faccio da qua Tac Iniziate La metto al minimo Della difficoltà Perché non ho voglia Di impazzire Cosa devo fare? Devo Usare Delle esche Per attrarre Uno specifico nemico Devo ucciderne due Red Heavis Cioè due Draghetti Quindi Io non mi pare Di avere Delle esche Non mi pare Quindi dovrò anche Raccogliere Provo Infatti Non ne ho Ah forse è il vino No infatti No assolutamente Devo prima uccidere Degli animali Per avere le esche Ecco Uccido questo Snapchow Chissà se Percepirò Un miglioramento Delle mie statistiche Grazie all'oggetto Che ho Appena acquisito Purtroppo Mi toglie L'elmo In pratica Combattendo Con questo Body Fa anche Da elmo Quindi Per esempio Se io vado a vedere Vedete che non ho La parte alta Perché è stata sostituita Definitivamente Da questa Avrebbe anche Quattro posti Per le materie Questo equipaggiamento Però Spero che Mi duri poco Allora Intanto ho preso Delle esche Avrei potuto Tenerlo Nell'inventario E non indossarlo Per poterlo Poi rivendere Ecco Un re Davis Abbiamo trovato Subito Lo userò Fino a che Non lo porterò Ad avere Un spirit bond Del 100% A quel punto Lo convertirò In materie Buonanotte Oppure potrei Darlo ai miei Retainer Nel caso in cui Intendessi Portarne avanti Uno Specificatamente Comunque Questo nemico È stato Sconfitto Andiamo in questa Location Vediamo se siamo Fortunati Esce fuori Un altro Red Davis No È uscito Un napalm Io allora Mi allontano E vado qui Eccolo qua Questa volta Siamo fortunati Abbiamo trovato Ed è il secondo E ultimo Quindi Chiudiamo La leve quest Uccidendo questo nemico Vedete La quantità La quantità Di critici Che riesco A mettere assieme Benissimo Cioè benissimo In realtà Gli manca ancora Un colpo Ok Andato Allora Non tornerò Al volo Subito Come mi suggerisce La mascherina Che è appena apparsa Perché devo anche Uccidere Sei Caraculs Che sono questi Già che ho uno davanti Inizio Altri sono in zona Sono nemici Già più ostici Rispetto a quelli Che abbiamo incontrato Nella zona di Wineport Vedo che Sono di livello 35 In realtà Un livello in più Rispetto a quelli di Wineport Però Vedo che Ah perché non c'ho più Ciocobo Ecco perché scendevano Meno velocemente Ciocobo se ne va Dopo un totto di tempo O quando muore Ho droppato Della lana Che è molto interessante A livello di vendita È una lana Abbastanza pregiata Utilissima per livellare Intorno a livello 30, 40, 50 Con appunto Il Clothcraft Ok questo è l'ultimo Questi mostri Questi specie di caprone Di montagna Che cade sotto La nostra ascia Otteniamo il sesto oggetto Che ci serviva E andiamo a consegnare Ah ci sono altre missioni Devo portare Delle Allora in pratica Cosa succede Man mano che completo Le missioni Altre ne spuntano Perché Vedete sulla destra Io ho 5 missioni Segnate Man mano che Le missioni vengono Completate Scalano quelle successive Cioè quelle che magari Sarebbero state Le seste Chiaramente mette in avanti Quelle che ho appena preso Quindi Mentre Ship to the slaughter È L'ultima Che ho preso Chiaramente La Se vado indietro Nel tempo La sest'ultima Che ho preso Rimane nascosta Rimane sotto Quindi Man mano che le completo Compaiono Quelle Che Il gioco mette Come sesta Settima Ottava Eccetera Quindi è facile Che completando la missione Ne appaia un'altra A schermo Magari Un riferimento In mappa Che Prima non avevamo Perché prima avevamo Soltanto i riferimenti Delle prime 5 Molto semplicemente Io potrei trovarmi Che La sest'ultima Missione Ha un riferimento Davanti a me Ma Prima che non Prima di completarne Una Quella non compare E quindi Completo una missione Mi trovo davanti Il riferimento Di un'altra missione Che Non sapevo di avere Magari Comunque Sto consegnando I pezzi di carne Direi Insieme alle pelli Dei vari Caproni Che ho appena ucciso Devo ancora portarle A una guardia Che si trova Più verso nord Quella laggiù in fondo È la fortificazione Di Dragonhead Dove si trova Il teleport Dove io devo Ricordarmi di andare Prima di Lasciare questa Questa zona Sennò dovrò Tornarci Buvinamente a piedi Io qua Ho anche un altro Riferimento Di una quinta missione Perché Le ho tutte Completate Tranne una Quindi qua Sicuramente Troverò qualcosa Devo cercare Devo toccare Questo punto E affrontare Probabilmente Un nemico È un Feral Croc Un altro Feral Croc Mi ha attaccato Perché mi ha aggrato Però sono a livello 36 Tutti e due Quindi Ce la posso fare Comodo Comodo Assolutamente Sono nemici Alla mia portata In realtà Faccio fuori Soltanto quello Relativo alla quest Non ho nessuna Intenzione Di far fuori L'altro Quindi andrò Rapidissimo Ucciso questo Andrò verso nord Seminando L'ospite Inatteso E vado a toccare Il cristallo Che c'è qui C'è anche un'altra Missione qua Potrei persin Prenderla Sì Potrei persin Prenderla Ce ne sono altre due Altre un sacco Ce ne sono Mille Mila Ok Con calma Prendiamo questa Vedete È stata posizionata In cima Tocco il cristallo Ok Vado da Edwin Qua Vedete questi cannoni Questi cannoni Dovrebbero farci capire Che questa regione È attaccata Spesso dai draghi Che infatti Volando Ci portano A dover agire Con queste specie Di balestre Meccaniche Dentro questa casa Ci sono altre due Missioni Se le trovo Sono al piano di sopra Eccone una Vediamo se ne troviamo Anche un'altra Qui no Eh qua E anche questa è a posto Poi Ora vado a consegnare Le cinque missioni Completate Vedo che tra l'altro Un'altra risulta Completata Devo soltanto Dimostrare Dubbio D'Aubt Rispetto a Qualche personaggio Una volta fatto Conclude la missione Ma Torno In quel Paesino Vicino a Dragonhead Dove avevo preso Tutte le infornate Di missioni precedenti Non sto alzando Troppissimo Il mio livello Però Una volta superato Il livello Raggiunto il livello 45 Vedo che La barra Si è alzata molto poco Pur avendo completato Svariate quest Ora ci renderemo conto Di che salti Riusciremo a fare Allora qua Ho due missioni Da completare All'interno di questa casupola A questo punto Ci vogliono 400.000 punti Per Arrivare A livello successivo Non sono pochi Allora qua Chiudiamo le prime missioni E ce ne darebbero Anche delle altre Ho dato un anello Qua prendo L'equipment Qua Inizio un'altra missione Ok Poi Si va a sud A sud In quel paesino Ho almeno altre Due Se non tre missioni Da concludere Tra cui Quella Che mi sblocca Levemente Eccoci qua Tac E tac Perfetto Non vedo Non vedo Altro Non vedo Altro Quindi Vedete che Le levemente Dell'osservatore Sono state Completate Ho ancora Due missioni Da consegnare Sono tutte e due A nord Proprio dal Cristallone Altre mi sposterebbero Sulla destra In alto Vediamo Piano piano Mi spostano Sempre più In zone Sempre più Pericolose Stavo anche Guardandomi Intorno Ma non vedo Nient'altro Quindi Molto bene Una volta Completate Queste Quest qui Riprenderò La quest principale Ma Partendo magari Dalla quest di classe Di livello 45 Così Piano piano Mi porto avanti Anche lì E poi Devo cimentarmi Nel Fastidioso Dungeon Smile Darkhold Allora Qui ci deve essere Una missione Da concludere Gli do l'anello Perfetto E anche Questa è andata E A questo punto Do un'occhiata A questa missione Qua Dove mi fa andare Map A Tanalan Direttamente A Ulda Vabbè Allora A questo punto Qua Io Mi cimenterò Tornerò A costa del sol Chiuderò La missione Principale Che ho Già Aperto E Andrò a Prendere La missione Di livello 45 Del Marauder Del marauder Par No 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 No